Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e che se giochiamo a Raft? E' un gioco che nell'ultima settimana sta letteralmente spopolando su YouTube L'abbiamo visto da tantissimi canali internazionali All'inizio avevamo qualche dubbio sul portarlo, o meno, visto che abbiamo appena iniziato Astrolym Esatto Ma abbiamo visto qualcosa e ce ne siamo totalmente innamorati Secondo me la risposta sta qui, cioè Avremo una zattera con delle palme, con delle piantine, con il fuoco Praticamente cosa dovremmo fare? Sopravvivere in una zattera in mezzo all'oceano con uno squalo che gira intorno Per la felicità di Fereniki ci sono gli squali in questo gioco E Fereniki è il suo animale preferito Probabilmente i consulini non lo sanno, ma l'animale preferito è i Fereniki e lo squalo Non li freghi i consulini, mi conoscono troppo bene Non li puoi fregare Allora, infatti l'unica nota negativa è che in questo gioco Ma dove è negativa? No, aspetta, aspetta, si è negativa Sono racchiuse le mie due più grandi paure Ovvero, gli squali e i pesci in generale è l'oceano Ok Allora, se io capitassi in una zattera in mezzo all'oceano Sinceramente mi ucciderei Proprio diretta Non mi interessa sopravvivere lì in mezzo E invece, questo qua è proprio il gioco Fatta a posto così, se cadi da un aereo E hai una piccola zatterina E si dà un raft e mi ha insegnato Brava, brava, brava Quindi siamo pronti, iniziamo, creiamo la nostra bella partita Name of your game, Fereniki Oh, torna grandissimo Lo rimettiamo in mezzo Fereniki, Fereniki, torna Caricamento Ok Allora, ovviamente iniziamo proprio da una zattera Quattro per quattro, capito? Tu all'inizio vedi quella fighissima Che ti presenta il gioco di piazzalo lì E invece guarda dove siamo Ok, allora, con questo è un amo Credo che posso pescare Ok Suppongo di sì Ehm, cosa? Oh, no, è pieno di squali Lo vedi lì in fondo? Lo vedi che c'è già lo squalo E noi siamo in una zatterina minuscola? No, non lo vedo Mamma mia Allora Troppo impressione No, no, calmi, calmi Io credo Non ho proprio idea di cosa dobbiamo fare Ma secondo me devo agganciare queste cose I detriti che stanno arrivando Eh sì, sicuramente Altrimenti come ci prendiamo il legno e le risorse? Quindi scusami vai Mira, mira bene Uè 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 Ma fai schifo Cioè fai schifo Più forte? No, no, no Che stiamo perdendo tutto Vai Dai l'abbiamo preso, no? Sì Sì Mamma mia Che pesca Ok E adesso abbiamo un pezzo di legno nell'inventario Bellino come sistema Guarda che è originalissimo E soprattutto È super originale È realistico Esatto Perché comunque nell'oceano ci sono i detriti che viaggiano Quindi ci può stare Trovato Tab Ah, anche vabbè era anche ovvio Abbiamo utensili E cos'è per la casetta? E questi non so bene cosa siano Io prima di tutto mi farei una bellissima lancia Ok, no, non possiamo perché ci manca questo materiale E anche i rifiuti No, rifiuti ci abbiamo Ah, ok Questo materiale si fa così Quindi Ta-ta A questo punto Noi ci possiamo fare una bellissima lancia Che direi che farà comodo nel caso in cui lo squalo inizi ad avere qualche idea malsana Poi possiamo farci una canna da pesca per mangiare Che dici? Sì, direi di sì Sì, comunque guarda La fama inizia a scenderci E non so quanto durerà ancora Quindi secondo me Dobbiamo iniziare anche a prendere C'è un barile Prova a prenderlo Magari è qualcosa di particolare Tiro lunghissimo Dai che l'ho preso Sì Magari è qualcosa di particolare Che ti dà più materiali Vediamo Eh sì Guarda Anche le patate Una patata Una patata cruda Che sicuramente potremo poi cucinare Perché Che è successo? Non lo so Perché abbiamo perso un pezzo Mentre stavamo facendo le nostre cose Un pezzo di zattera Lo squalo ha ben pensato di toglierci un pezzo di zattera E allora ci dobbiamo muovere ed espandere Secondo me devo fare questo Ok Sì avevo ragione Ok avevo ragione Allora Un attimino Ci servono dei pezzi di legno Ok E ci serve questo Quindi aspetta Ok Hai raccato tutto Ci serve un altro pezzo di legno Davvero complicata questa cosa Opla Ok No io ho notato Guarda qua Guarda qui Con questo tu puoi Guarda Lo utilizzi Vedi E ti riempi di acqua salata Eh ok Ma non si può bere l'acqua salata Cioè ci ucciderebbe Esatto Quindi Mi manca Ok 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 Cioè dovrei fare Ho capito Crafto questo Crafto questo bollitore Non abbiamo più Più spazi No nei due di quattro Di rifiuti Nei due di quattro Quindi devi prenderne di più Capito Ah no non mi raccordo Devi prenderne altri due Guarda è lì Tiro lunghissimo Lì è Benji Prendilo Sì Ok Ok stiamo per morire di sette Te lo dico Ta Ta Hai visto che fai E tra poco Possiamo bere Bellissimo Si ho fatto così Per indicare Per metterle come L'hai messo Ti ho fatto il pollicione Sono già gasato Bellissimo Sono già gasato Io amo sto gioco Così è impazzita Ferinichi Sì guarda Pazienza per lo scuola Ma io amo Io devo dire Che questo è il periodo Più bello dell'anno C'è Natale Che è appena passato E soprattutto ci sono Due giochi survival Bellissimi da giocare Che sono il nostro genere preferito È fantastico Quindi sinceramente Da quanto lo stavamo aspettando Un gioco survival Ce ne hanno fatti due Ce ne hanno fatti due 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 Ho sbagliato Mi sono fatto prendere Dall'euforia No non dovrò riniziare Stavo cliccando Le cose in fretta E sono tenuto Al menu principale Stere Niki Sei terribile Lo so Sei una persona terribile Eravamo troppo felici Qua qualcuno Doveva spezzare Un po' l'entusiasmo Dai più o meno Ho recuperato Tutto quello che ci serviva Anzi Da un barile Ho trovato Dei semi Di qualcos'altro Semi di palma Mi è sembrato Comunque dimentichiamoci Del fail che ho fatto Non voglio più sentirne parlare Te lo rifaccerò Per sempre Se questa sarà una serie Fino all'ultimo episodio Te lo rifaccerò Guarda E trovo il modo di salvare Che non dobbiamo rinunciare Ogni volta E beh sai Quello non sarebbe molto comodo Comunque I semi sono molto interessanti Perché ce l'è presente Nel log screen Che si vedevano proprio le palme Puoi fare i vasetti Quindi sicuramente Possiamo anche iniziare A fare un vaso E le palme Non male Non male Non male Sì sì vedi infatti sì Ok Però Non l'hai bevuta Ce l'è nell'inventario Quindi sicuramente La devi prendere E mettere Eh dove lo vedi Ah ok Qui Ok Allora facciamo Tipo ta Che tanto per ora I semini Non ci servono Neanche le patate E ci beviamo l'acqua Ok non è proprio Potentissimo Nel ricaricare Però È già qualcosa Abbiamo Mamma mia Battere Posso fare qualcosa No ti prego Queste cose però no Queste cose no Mi è venuto in infarto Queste cose no Aspetta 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 Ci penso io Ci penso io Io ero così tranquilla No no lui non ha capito Come funziona questo posto Dove sei? Sei andato? Eh certo Ci ha mangiato metà zattera Possiamo provare a fare Questo per cucinare Sì che abbiamo anche la patata da cucinare Vediamo un po' quanto ci sfama Vediamo 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 No ma credo che la patata vada piantata Ah dici? Sì No la patata è cruda Ascolta me Ascolta me Se la piantata non la pianti Come fai poi ad avere altre Se la piantata non la pianti Se la patata non la pianti Come fai poi ad avere altre patate? Nei barili Sì ma è meglio E allora fatti La canna da pesca Così peschiamo Ok E possiamo iniziare a cucinare il pesce Esatto Esatto Sembra logico Vedi che alla fine ci arrivi alle cose Bravo Bravo Io sono esperta di survival Sì sì Lo so che una guerriera come me Non può mostrare debolezze Verso gli squali E infatti cercherò di sopravvivere Il più possibile Anche se mi prenderanno infarti Ok? Va bene Grazie Se pesco lo squalo Olè Ok l'abbiamo preso Sì 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 Se pesco lo squalo Sai Quello può essere un problema E direi Allora quindi adesso Guarda te Guarda Facciamo Ah no Questo ce l'abbiamo già Quindi lo mettiamo Tipo al posto Di un attimino del martello Ce lo piazziamo qui Vicino a quello dell'acqua Secondo me così è tutto bello comodo È gestito bene A questo punto Mettiamo il pesce E lo stiamo già cuocendo Bellissimo Ci beviamo di nuovo l'acqua Ci beviamo di nuovo l'acqua La riempiamo La rimettiamo qua E guardate che bella roba Stiamo già andando alla grande Secondo me Assolutamente sì Stiamo facendo progressi No Aspetta La lancia Disgraziato Via Vattene Vattene Ok Ci siamo difesi dallo squalo Ci si può difendere Bellissimo Ci siamo difesi dallo squalo Vedi che siamo più forti Squaletto mio Oh che bello il pesce colto L'hai visto? Sembra buono Bellissimo Ci togliamo un attimino Anche questi E sei Mangia Ok Riempie parecchio Anche di acqua Hai visto? Ah sì Ti rida anche un pochettino di acqua Gli ho visto salire contemporaneamente Devo dire che quella nasce menza Ti devo dire Devo essere sincero Perché quando mangi proteine Il corpo per digerire Consuma liquidi E quindi ti viene sette Non è che ti passa la sette Ok Hai guardato troppe puntate di Bear Grylls Esatto Lo sape Lo sape Se sono così brava a giocare a questo gioco È solo grazie a Bear Grylls Ma che zitta Però l'episodio con uno squalo in mezzo Non l'ha fatto lui Ah vedi Quindi siamo anche migliori Dai un altro pesciolino Così ce lo conserviamo per dopo Pesciolino Pesciolino Li abbiamo già finiti? Ok preso Dov'è il pezzo? Qua Ok 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 Secondo te cosa ci facciamo adesso? Io pensavo Di espanderci un po' Sì no Assolutamente Assolutamente Ok allora guarda Ta 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 Perfetto Sì sì Ci abbiamo il villone La zatta era super lusso qui Ok quindi ci creiamo L'altra corda Esatto E ci facciamo Questo Sì Dai Vediamo un pochettino a che serve Quindi Piantiamo qui Vediamo Non abbiamo Vediamo patate Semini Aspetta 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 Prendiamoci materiali Quando capita così Bisogna raccattarli subito Quindi ta Ok Abbiamo piantato le patate Ma non ce le hai ancora in mano? No Quelli sono gli altri semi E i semi non li puoi piantare Ognuno Secondo me ognuno ha il suo vaso Mi sembra abbastanza sensata come cosa In effetti Se ci pensi Ha un senso logico E allora facciamo poi anche un altro vaso per le palme Che voglio vedere un po' Come diventano Ok Allora ci serve un altro bel po' di piantine Perché siamo totalmente Accorto Allora Ho bisogno di mangiare questo pesce Quindi per ora ci togliamo questi due pezzi I materiali Tanto non c'è bisogno di tenerceli fissi in mano Sì vedi che sale anche l'acqua Sì 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 Vabbè sicuramente anche per comodità Perché ho notato che quando bevi l'acqua sale davvero Davvero in modo basso Capito Beh sì Quindi almeno per comodità Quando mangi ti reidrati un pochettino Ok Altri pesciolini Dopodiché cerchiamo di arrivare di nuovo a quattro corde E cerchiamo di farci un altro vaso Così vediamo Sono d'accordo Sono d'accordo Anche per le altre cose Allora continuare a catare tutto quello che vedo Secondo me però può essere un buon investimento Eh sto già crescendo Ma che bello Ma come si è bellina Che carina è la nostra prima pianta in mezzo all'oceano La nostra prima pianta in mezzo all'oceano Che emozione Mi sono già affezionato Anch'io Guarda che tutto ti raccolta questa volta Guarda che pescona Spim Ma che sta arrivando No No che lì abbiamo il cibo Lì abbiamo il cibo Molla Molla Vattene Brutto disgraziato Ok Ok ormai abbiamo imparato Lo stiamo per adomesticare secondo me Tra un po' sì Praticamente ci porterà in giro Proprio tu ti metti in groppa e te ne vai in giro Come se fosse una moto d'acqua Capito Secondo me la finiremo così Sta continuando a crescere Oh che carina Che meraviglia Ma è un po' strano Ah tu lo metti Ok Capito Ho capito Tutto quello che va lì Si ferma Ma questo gioco è una meraviglia Sì È una meraviglia È bellissimo Ma scherzi Sì È bello È bello 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 È bello È proprio molto bello Quindi questo continua a servirci Allora lo rimetto subito qua Non avevo proprio capito che era così Allora mi piace anche un sacco di più No io pensavo che lo usassi tu come rete Quando vedi avevi tipo questi Che sono abbastanza Vediamo Lascialo Lascialo No no Non ci arriva Non ci arriva Peccato Dicevo quando sono abbastanza vicini Quindi te li prendevi così Invece è proprio una cosa che rimane nella nostra zattera Bello Guarda Doppio barile Eh vabbè Te li becco di una volta solo Aspetta Vai Ta Ta Steffi il pescatore Oh Ma Nessuno dei due Wow Dai Ce la fai Questo lo prendo L'altro non ho idea Ci devo riuscire Provaci Sì ce la fai Ce la fai Sì 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 Perfetto Perfetto Ok sto controllando un po' quello che ci dà questi Comunque oltre a dare un sacco di materiali tipo semini Danno davvero un sacco di roba utilissima Oltretutto ti ho dato un'altra patata Quindi possiamo ancora aumentare la nostra piantagione Che di certo non è male Esatto Guarda che figo Oh Questo inizia a funzionare Guarda adesso anche tutti questi ci arrivano Sì 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 Che bello Mi sta facendo prendere la mano E di conseguenza facciamo il terzo Vai Tutto così Beh è un investimento No dai è utile È un bel investimento secondo me Sì assolutamente Ok stiamo gestendo tutto nel modo migliore possibile Secondo me Allora un attimino Toglimi questo Rimettimi qua l'acqua La riempiamo La rifacciamo E facciamo così Adesso ovviamente abbiamo bisogno di metterli anche dall'altra parte Voglio assolutamente questo barile Quindi Tacchete Perfetto Ok E vediamo un attimino cos'altro ci possiamo craftare Magari No Oh mamma mia mi ha fatto venire un infarto Guarda Io ho visto già lo scuolo prontissimo a mangiare Chiedo perdono Aiuto Non parlo mai più Ok Non ci credo Non ci credo Alla fine è morto L'abbiamo ucciso Sì Maschi Highlander E adesso chi ci farà compagnia Highlander è morto Dovrò dargli un altro nome Eh sì Highlander Non gli ha portato fortuna sto nome No Ah ne è già comparso un altro Ah ok Il fratello Il fratello di Highlander che si chiama Alexander Vai Va bene Perché fanno rima capito Sono fratelli giustamente Sei un fenomeno guarda Lo so Lo so grazie Non ti può fermare nessuno nel mondo No no assolutamente Assolutamente Proprio Meglio di te non c'è nessuno Dopo un po' di tempo che lui cerca di distruggerci la zattera Eh mi sembra giusto Lo uccidiamo perché giustamente continuiamo a ferirlo E questo è realistico E una cosa che apprezzo Perché sarebbe stato un po' senza senso Se lui sopravvivesse sempre E ci prendiamo pure la carne Che probabilmente sfamerà anche bene Quindi grazie Highlander Il tuo sacrificio non è stato inutile Perché vivrai per sempre nel nostro stomaco Se lo digeriamo non vive per sempre E allora vivrà poi sempre nei bisogni che faremo in mare Ok Ce li conserviamo in un vasetto Uè c'erano anche due piantine Michele avevo viste Ok allora Quindi siamo a una, due, tre, quattro Possiamo fare il vaso Bello mi piace Da Piazziamo Sono felici E vabbè No No però è troppo grande No 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 C'è un problema che non mi aspettavo Troppo grande E va bene in effetti sì Cioè qua ti aspetti da delle palme Sono giganti le palme Di fatto non me l'avevi detto Quindi neanche tu ci avevi pensato Magari ci espandiamo un pochettino E lo mettiamo in un angolo Verso dove però? Eh boh anche verso qua Verso davanti qua Fai un'altra linea No? No Sta attaccando più ai margini Visto è più furbo questo Sì sì Il fratello Alexander ha capito Dall'errori del fratello Come Dall'under che è finito a cucinare Come comportarsi Sì le ha lasciato un diario di bordo Capito? Ogni giorno faceva gli attacchi Sono intelligenti eh Molto molto sì Forse non lo siamo noi però Eh esatto Vero? No sto pensando a come fare per il vaso delle piante Perché lo voglio mettere Abbiamo bisogno di creare una sua pietaforma Secondo me Pum 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 Sì sono d'accordo Ti piace? Davvero un po' eccessivo eh Però vediamo adesso Vediamo a che servirà Eh ma secondo me è utile Sai perché? Perché così poi abbiamo legne infinite E possiamo fare davvero una piattaforma super gigante Ma la legna infinita ce l'abbiamo lo stesso Sinceramente Sinceramente ci mancano le piantine Quindi io spero che l'albero dia sia la legna che le piantine Eh sicuramente sì Certo che ti ridà un po' di semi Guarda che sta tornando all'attacco eh No di nuovo Guardalo sì No subito sulla nostra nuova Guarda l'alberello che bellino Ha fatto le finte Guarda che bellino Ci siamo fatti prendere la mano Io ho paura che questo episodio Sarà da tipo 20 minuti Però ci è piaciuto troppo Io non riuscivo a fermarmi È davvero una figata Vorrei ancora continuare Una figata Pazzesca Vorrei ancora continuare Anche io finirlo tutto in un solo video Eh fateci sapere se volete vedere un continuo Speriamo di sì Perché è davvero una figata Secondo me Piacerà anche più di Astronir Perché comunque ho notato che Quando il survival Sta sulle isolotte Sull'oceano Quando è un po' più così Assomigliamo a Stendidip Diciamo che dà più il senso di survival Perché alla fine Astroneer È molto esplorazione Mentre invece questo è proprio Sopravvivenza pura Come piacciono a noi Come piacciono a noi Secondo me il bello è che stiamo portando Proprio due giochi Che sì sono entrambi survival Ma sono molto diversi tra loro No sono molto diversi E quindi sono adeguati Entrambi per il canale Quindi speriamo che vi sia piaciuto Nel caso lasciateci tanti like Fateci sapere appunto nei commenti Se vi è piaciuto o meno E ci fermiamo così Grazie a te la palma No Guardalo Guardalo La palma è nostra Gattene Bene che si giunge Scusate se giusto Lasciateci un bel like E se la prima volta che vedete Il nostro video Potete considerare lì Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.